Si chiama Vorrei il progetto della Caritas per il contrasto alla povertà educativa e che vede coinvolti operatori e volontari della Caritas Nissena ed in particolare Lorella Lu, Viviana Eppolito, Valentina Riso, Gianni Brucato e Tatiana Speziale stanno incontrando i giovani che frequentano i Grest nelle diverse parrocchie della città organizzando attività in vista dell'inizio dei laboratori una volta finita l'estate. Con la collaborazione di associazioni artisti locali infatti i giovani e le giovani potranno prendere parte i diversi laboratori in programma, dallo sport con il basket, calcio e atletica leggera all'arte con il teatro o ancora il laboratorio dei Cinque Sensi. Noi operatori della Caritas stiamo facendo in questi giorni estivi il giro per tutti i Grest parrocchiali che ci sono nella nostra città. È un'opportunità che è partita da un progetto che ha finanziato Caritas Italiana. Il nostro progetto si chiama Vorrei ed è un progetto che proprio dallo stesso nome vuole sogne in grande sogna un futuro gioioso e armonioso per i ragazzi che in questi anni hanno vissuto i tempi della pandemia rinchiusi in casa. E quindi siamo qui a girare e a conoscere questi ragazzi e a portare dei messaggi di speranza. Questo progetto inizia così, inizia con la conoscenza e inizia con delle attività presso proprio i Grest ma continuerà perché a settembre inizieranno dei laboratori e delle attività sportive che saranno proprio dedicate a tutti i ragazzi e a tutti i giovani da una fascia che va dai 10 ai 16 anni che non possono magari permettersi di poter fare delle attività. Quindi finanzieremo queste attività per tutti questi giovani grazie anche al supporto delle parrocchie. Al momento Neva Rigrest stiamo portando avanti il motto di questo progetto L'unione fa la forza, uno per tutti e tutti per uno ma stiamo facendo capire ai ragazzi che non è solo uno per tutti ma è uno con tutti e tutti con uno per far capire che l'unione è molto importante esserci l'uno per l'altro.